Arriva il secondo americano in maglia bianco-rossa dopo Jordan Varnado. Il pistola basket ha infatti annunciato lo statunitense Braxton Huggins, esterno che si appresta a debutare in Italia dopo aver ben impressionato in ENCAA e nelle altre esperienze oltroceano. Nato a Bakersfield in California il 30 novembre 1996, guardia fisica di 193 cm per 88 kg, Huggins cresce scientificamente alla New Mexico State University prima di sbarcare nel 2019 in Olanda, scelto dall'Eiden. La sua annata da ruche è di quelle importanti con oltre 15 punti a partita e 43% dalla lunga distanza. La stagione successiva è in Finlandia dove fa la voce grossa con oltre 20 punti, 5 rimbalzi e 3 assist di media. Seguono fugaci apparizioni in Grecia ed in Giappone prima dell'ultima positiva esperienza in Estonia al Tartu. Sono felice di poter inserirne nel roster un altro giocatore di grande vigore fisico, dice coach Nicola Brienza, nonché con ottime doti tecniche come Huggins. Con Widole e Barnado andrà a formare un trio strutturato in maniera davvero notevole, che ha fatto molto bene la sua prima esperienza europea. Sarà una Pistoia molto fisica e che andrà all'arambaggio. Queste le prime parole in bianco rosso di Huggins. Sono entusiasta all'idea di approdare a Pistoia, da tempo volevo mettermi alla prova in Italia e non posso che ringraziare il mio agente per avermi accontentato. Che tipo di giocatore sono? Un realizzatore, in campo il mio istinto primario, è quello di provare a fare canestro. Mi piace anche giocare da play e creare tiri aperti per i compagni. Coach Brienza ne ha parlato delle sue idee di gioco, credo che ci siano tutti gli ingredienti per una grande stagione.